Gli uomini e la verità Eraclito, frammenti Gli uomini non intendono questa verità eterna, né prima di udirla, né dopo averla udita. E sebbene tutto avvenga secondo tale dottrina, che è la legge del mondo, ne sembrano inesperti, pur avendo, in fatto di parole e di opere, esperienze identiche a quelle su cui ragiono io, analizzando ciascuna cosa secondo la sua natura e dicendo come è. Ma agli altri uomini sfugge quel che fanno da svegli, non ricordano ciò che fanno dormendo. Chi vuole che le sue parole abbiano senso, deve basarsi su ciò che è comune e ha senso per tutti, come la città si basa sulla legge e con forza anche maggiore. Poiché tutte le leggi umane traggono nutrimento dall'unica legge divina, questa può tutto ciò che vuole, dà origine alle cose e le domina tutte. Quindi si deve seguire ciò che è comune, ma benché questa verità sia comune, i più vivono come se avessero un pensiero proprio. I desti hanno un unico mondo comune, ma nel sonno ognuno si apparta in un mondo a lui proprio. Bisogna sapere che la guerra è comune e che la giustizia è conflitto e che tutto avviene secondo conflitto e necessità. Polemos, la guerra, è padre e re di tutte le cose, e gli uni rivela gli dèi, gli altri uomini, gli uni fa schiavi, gli altri liberi. La stessa cosa sono il vivente e il morto, il desto e il dormiente, il giovane e il vecchio. Questi, mutando, si trasformano in quelli e quelli in questi. Gli opposti coincidono e dagli elementi discordanti nasce una bellissima armonia. Non capiscono come, pur discordando, concordi con se stesso, armonia di tensioni contrastanti come nell'arco e nella lira. Il Dio è giorno-notte, inverno-estate, guerra-pace, sazietà-fame, e muta come il fuoco, quando si mescola ai fumi odorosi, prende nome dall'essenza di ognuno di essi. L'arco si chiama vita, ma ciò che genera è morte. La via in su e la via in giù sono un'unica identica via. La malattia rende dolce e gradita la salute, la fatica, il riposo. Scambio reciproco di tutte le cose col fuoco e del fuoco con tutte le cose, come delle merci con l'oro e dell'oro con le merci. Non si può entrare due volte nello stesso fiume. Acque sempre nuove lambiscono quelli che entrano negli stessi fiumi. Per quanto tu cammini, ed anche percorrendo ogni strada, non potrai raggiungere i confini dell'anima. Tanto profondo è il suo locus. Come il ragno, stando al centro della tela, non appena una mosca ne rompa un qualche filo, se ne accorge, e svelto accorre in quel punto, come se sentisse male per la rottura del filo, così l'anima dell'uomo, quando una parte del corpo è ferita, vi si reca rapidamente, come se non sopportasse la lesione del corpo a cui è congiunta stabilmente e secondo un determinato rapporto. L'erudizione non insegna a pensare secondo ragione, altrimenti lo avrebbe insegnato a Esiodo e a Pitagora ed anche a Senofane e a Ecateo. L'intima natura delle cose ama nascondersi. Il Signore, il cui oracolo è in Delfi, non dice e non nasconde, ad ombra. Ho indagato me stesso. Una volta nati, vogliono vivere ed aver destino di morte, e lasciano figli perché nuove morti si generino. Qual è, infatti, il loro intelletto e la loro mente? Ascoltano i cantori popolari e prendono a maestra la folla, perché non sanno che i molti non valgono niente e solo i pochi valgono. Uno vale per me diecimila, se hai il migliore.